Penso che se non resta, finalmente, si sono arrivati a qualche tipo di accordo. Messi è, ovviamente, un giocatore incredibile. È più di un giocatore, è una grande legenda. E il Barcelona è il suo club. Se finalmente si sono arrivati a una conclusione, è certo per i due. Vediamo cosa succede nel futuro. In realtà, questo mi permette di congratulare un altro giocatore, Cristiano Ronaldo, che ha scoperto il gioco numero 100 e 101 con il suo team nazionale, che è top per l'Europa.